benvenuto a questo breve video che vuole raccontarti perché vale l'impegno prendere un aereo e recarti a Cagliari il 28 giugno perché il 28 giugno ci sarà un'intera giornata di formazione gratuita con crediti per gli assistenti sociali attorno a un tema fondamentale ovvero attorno al tema della gentilezza la gentilezza è l'antidoto al burnout e l'antidoto ai maltrattamenti proprio oggi 15 giugno 2023 siamo qui a parlare tutti nel mondo di maltrattamenti il maltrattamento non è solo la violenza fisica di un professionista della cura rivolta verso la persona di cui dovrebbe avere cura ma il maltrattamento è qualcosa di più il maltrattamento è la sensazione che in qualche modo noi ci portiamo di inadeguatezza di impotenza e quindi il maltrattamento inizia lento stresciante silente inizia nelle trascuratezze inizia nel momento in cui noi non sappiamo più vedere la persona al di là della malattia al di là dei suoi sintomi nel momento in cui chi coordina chi dirige i servizi non riesce più a vedere le persone come parte di una squadra appassionate a un obiettivo a un risultato e insieme diventano squadra che scende in campo per vincere e vincere cosa vincere i risultati del benessere della serenità di tutti quei risultati che potremmo anche misurare e che sono l'elemento della qualità della vita delle persone allora la gentilezza che cos'è la gentilezza è stata definita all'interno del libro che ho appena scritto edito da da perioditrice insieme a francesca zedda e in questo libro francesca io scriviamo che il mal che la gentilezza è l'antidoto al maltrattamento in questa giornata di formazione che tu ti potrai godere prendendo l'aereo e raggiungendoci a cagliari il 28 giugno in questa giornata di formazione francesca io giulia albano i professionisti che si occupano di musicoterapia e che cosa ti potremmo offrire ti potremmo offrire idee concrete per tornare a casa e impiantare nella tua organizzazione nuovi semi di gentilezza quei semi di gentilezza diventeranno germogli organizzativi diventeranno germogli di nuovi processi di cura e quei germogli diventeranno presto una nuova modalità di essere cura nella tua organizzazione ti aspetto a cagliari il 28 giugno ne vale l'impegno ciao